ciao a tutti ragazzi io sono frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su gatto roboto nello scorso episodio abbiamo sistemato tutta la zona riscaldata e adesso possiamo uscire tranquillamente dal meca aspettate che mi basso un po il volume delle cuffie perfetto c'è questa musica un po pesante ok dobbiamo andare lì giù per andare lì giù dobbiamo fare un po di strada inversa vabbè dai si può fare questo si rompe no è solo la lava che si è solidificata no stiamo sbagliando strada non per forza questa strada sicuramente mi manca qualcosa perché quello è un punto esclamativo oh cavolo ok pensavo di non poter più tornare su ah no adesso sono solamente dei blocchi random no ok c'era bisogno di essere così violenti allora da lì sopra posso passare ad esempio qua non potevo andare vabbè aiutaci qua cosa c'è? un salvataggio c'è anche un letto posso fare qualcosa? fa qualcosa se mi metto nel letto assolutamente no avrei dovuto farmi aiutare da lui qui dove siamo? aio andiamo di qua allora ok qua c'è un help module perfetto siamo a 12 adesso l'unica cosa da scoprire adesso è come arrivare lì sopra un po' super salire di qua no no eh peccato questo si apre ci manca ancora quella zona da qua non possiamo raggiungere molto facilmente di qua? no quello dopo ancora giusto? no è questo no è questo no è questo mi sembra tipo che si salga da lì sopra dobbiamo vedere se ci siamo persi qualcosa di qua ok ho capito devo rompere quello andiamo dai no non devo rompere quello ah vabbè devo rompere questo allora eh sì cartridge module? sì quanti siamo? miautrix palette ok no assolutamente non la proveremo da 6 su 14 ce ne manca una per il potenziamento adesso siamo abbiamo completato quest'area al 100% l'unica cosa che ci rimane da fare prima di andare sia andare lì in fondo 1 2 3 eh dovremmo rifare anche una bella caduta di qua giusto? sì figata che posso fare il rocket jump ok da qua devo continuare solo con Kiki ah no ah si può fare perfetto e basta ok un altro health module nice siamo a 13 quanti sono al massimo? ok altre 3 adesso dobbiamo scendere lì giù ok 2 perfetto Kiki è il tuo momento ok un altro cartridge quindi adesso aiuto no posso tornare a al potenziamento a prendere il potenziamento dell'arma devo solamente ricordarmi dove posso andare via da questo luogo? sì no non è ancora manca ancora della roba da fare ah no ah no Ok Devo passare dall'altra parte Allora Giusto? Sì Devo passare di qua Da qua poi scendo Andiamo di qua giusto? Sì Un altro cartridge E' brutto questo Completato? Sì Completato al 100% Scusami? Come ha fatto a sopravvivere al mio attacco? Ecco questo l'ho già fatto Ho già ascoltato se non sbaglio Era quello del cane Allora il mercante si trovava a X17Y16 Ah di qua possiamo fare altra roba però Terminiamo tutto quello che c'è da fare Così non torneremo mai più qua Ok dobbiamo parlare di Dobbiamo parlare Non preoccuparti gatto Ho delle informazioni su quest'area Ok La ventilazione è molto stretta Quindi in altre parole Non è Non potrei usare il Mac qua Ok Fai con calma Sono sicuro che te la cavarai Ventilation Non mi sembra il Ah bene Dovevo salire su Ventilation era L'ultima zona Ah qua non ci posso andare No Cavolo Eh velocissimo Ha sprintato Cosa fa questo Ok Ascoltami Hai visto quello? Scusami Scusami gatto Credo che Vorrei solamente aiutare Ok Sembra che tutto possa cavartela da solo Sono così fiero Passo e chiudo Ma non posso fare niente qua Mi sono stato ingannato Ok Vediamo da questo lato Se no poi torniamo indietro No Non possiamo ancora fare niente Torniamo su allora Allora Ok No, con la ventilazione è ancora bloccata, quindi l'unico posto dove posso andare, eh devo risalire con l'ascensore. Ok, qua giù se non sbaglio c'è il mercante, sì. Ciao! E' ciù! Ok, vediamo i tuoi progressi. Ok, ho otto cartucce, sì. Questa potrebbe fare... potrebbe esserti d'aiuto. Ok, repeater module? Devo tenere premuto X per usarlo. Ok, quando trovo quattro riciclattucce potrò darmi un altro potenziamento. Ah, perfetto! Questo ci sarà molto utile, per non rompere il tasto. Ok, adesso manca solo la ventilazione. Però prima io andrei nell'acquedotto a trovare le altre cartucce. Ok, perché non... non potevo andare là. A meno che io non sia stupido e non abbia visto qualcosa. Così è stato sotto da... Oh sì, dov'è? Sì, dov'è? See, dov'è? io ad esempio avevo visto questo durante le registrazioni una bella sfida come devo fare qui c'è qualcosa di interessante no ah ho sbloccato la scorciatoia è tutta qua è un modulo ok ne valza la pena guppalette no per favore ok adesso vediamo un pochino cosa ci manca dove siamo qua questa zona sembra che l'abbiamo finita tutta quindi assolirei con l'ascensore qua c'è roba dove non poteva andare ad esempio che forza però è quel calore no dai manca ventilazione lo so si è dove ok dove c'è la ventilazione da sistemare saliamo sopra qua giusto si cartridge module nicotine palette quanto siamo a 10 adesso ci tocca andare per forza bene ciao 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 Grazie a tutti. Ci siamo. L'ultima parte. L'ultima parte. Ok, vediamo un pochino se ci siamo persi qualcosa. Da questa volta non si può andare. Quindi siamo costretti ad andare da questa parte. Siamo di qua. Ok, lì c'è un altro salvataggio. Qua c'è un salvataggio, perfetto. La non ci posso andare. Ho capito, mi ha sbloccato il... Ok. Sì, l'abbiamo già visto. Mi ha sbloccato la... Come si chiama? Ha spento l'aria qua giù. Attenzione. Ok. Fai, fai, rapido. No. Corri, corri, corri. Ah, salvataggio. Perfetto, ragazzi. Io direi di chiudere qua questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video. Ciao a tutti.